Bene, eccoci in una pagina a caso di YouTube. Io ho scelto la pagina con un mio video. Vedete qui abbiamo il numero di visualizzazioni, il numero di mi piace e il numero di non mi piace. La procedura è molto semplice, posso applicarla a questo video, ma posso anche applicarla ad altri video. Basta andare col mouse sulla manina che punta verso il basso, cliccare questo codice, premere invio, aspettare poco tempo e tac, ecco il contatore è tornato a zero e la barra verde è ritornata perfettamente integra. Fatemi sapere con un commento se anche a voi la procedura ha funzionato.